Bene, siamo live. Buonasera a tutti. Io sono Roberto Reale, presidente dell'associazione Eutopian. Abbiamo come ospite stasera per Restart, per la puntata di oggi di Restart, Liliana Frattini Passi, che è direttore generale di ICB ed ha un ruolo, ricopre oggi un ruolo centrale, ma lo ha ricoperto anche, se vogliamo, negli ultimi due decenni nella innovazione, nella transizione digitale del settore finanziario, del settore bancario in Italia e non solo. Anzitutto grazie di essere qui stasera, grazie dell'opportunità di poter parlare di un settore che è così importante per la crescita del Paese e per l'economia. Benvenuta. Bene, grazie. Grazie davvero per l'invito, per l'opportunità, un sentito ringraziamento anche a chi sta ascoltando in questi momenti. Rivolgo anche un saluto cordiale alla cara amica Flavia Marzano, vicepresidente dell'associazione, quindi a voi davvero i miei sentiti ringraziamenti. Che è stato poi un po' il nostro... Il nostro gancio, esatto. Assolutamente, assolutamente. Bene, io vorrei innanzitutto chiederle Cosa è il CB? Il CB è sicuramente, come dico, un nome noto per chi si occupa, appunto, per chi si occupa di finanze in Italia, però immagino che al grande pubblico, ecco, può sfuggire l'importanza di quello che era nato come un'associazione. Ci racconta un po', sì. Sì, assolutamente, grazie. Oggi CB è una società consortile per azioni con vent'anni di storia ed è posseduta da circa 400 banche e quindi intermediari finanziari che svolgono ruolo di azionisti ma anche clienti. Siamo a tutti gli effetti una società interbancaria che promuove i servizi e piattaforme digitali per l'innovazione delle banche, degli intermediari finanziari e affinché evidentemente con questo processo di digitalizzazione dei soggetti che noi aderiamo favoriamo evidentemente una migliore proposizione dei servizi alle imprese, eccettine alle pubbliche amministrazioni. Non siamo note come azienda perché in effetti siamo dietro le quinte. Noi lavoriamo, sviluppiamo per le banche servizi digitali, applicazioni, servizi di pagamento interoperabili proprio per semplificare quello che noi definiamo il colloquio e la relazione tra banche, cittadini, imprese e pubblica amministrazione nelle occasioni di pagamento e di trasmissione di documenti e noi anche grazie alla nostra presenza internazionale riusciamo a garantire massima interoperabilità, quindi massima raggiungibilità di tutta l'industria finanziaria attraverso la rete che evidentemente è sotto la nostra responsabilità ma soprattutto anche attraverso le cosiddette norme tecniche, quindi gli standard, quindi la messaggistica e la semantica che noi sviluppiamo e rilasciamo su base anno. Siamo anche green by design, insomma ci piace ovviamente affermare anche la nostra vocazione green proprio perché negli ultimi venti anni da sempre tutti i processi di digitalizzazione favoriscono ovviamente l'eco compliant delle nostre attività. Voi siete nati nel 2001, il 19 dicembre giusto? Ma come ACB, quindi come associazione? Sì, allora siamo nati come associazione, allora faccio un ulteriore passo, durante gli anni 90 il sistema finanziario e soprattutto l'avvento di internet e della relazione multibancarizzata con le grandi imprese ha necessitato per le banche, per le corporate, quindi per le aziende di lavorare insieme in logica multibancarizzata. Da lì, dalla fine degli anni 90 è su un pulso sotto l'egida dell'associazione bancaria italiana, nasce il servizio corporate banking interbancario che già a distanza di quasi 20 anni in Italia è utilizzato da tutte le imprese multibancarizzate, circa 3 milioni, è offerto da tutte le banche italiane. Quindi è lo strumento con cui oggi in Italia si può realizzare attività di cash management, quindi pagamenti, incassi, rendicontazioni, banca e impresa senza recarsi fisicamente presso lo sportello bancario. Ora da quel momento in poi l'impulso fu quello di creare un'associazione, l'associazione per il corporate banking interbancario nel 2001, ma dal 2001 fino ai giorni di oggi abbiamo in realtà attraversato 20 anni con due ulteriori trasformazioni societarie da associazione in consorzio nel 2009 e poi ormai due anni fa a giugno 2019 in società consortile per azioni e questo percorso societario ha evidentemente attraversato e accompagnato anche la fase evolutiva dell'azienda con il suo DNA e con i nuovi servizi che via via abbiamo rilasciato in questi vent'anni, vent'anni caratterizzati da grandi spinte innovative, sia in termini tecnologici, parliamo di cambiamenti tecnologici di cui oggi noi assistiamo, quindi l'avvento di internet, l'intelligenza artificiale, l'internet of think, la blockchain e tutta la tecnologia a base di quella che poi è le stable coin. L'avvento con l'euro, l'avvento... Stiamo già, come dire, percorrendo qualche domanda su che si va bene. Esatto, noi ci siamo dovuti insomma organizzare per far sì che le banche attraverso il lavoro collaborativo di ecosistema precompetitivo di CB potessero essere sempre più performanti nel sistema competitivo di cui poi oggi leggiamo quotidianamente sui giornali. So che piccolamente si state cambiando anche sede in questi giorni, vero? Voi avete sede in via delle botteghe oscure. Sì, esatto. E so che vi siete trasferiti insomma a poca distanza. Siamo veramente a via del Gesù e abbiamo completato tutte le attività di trasferimento della sete nei nuovi locali, un'attività non semplice. Certo, lavorare sotto con il distanziamento e con queste attività ovviamente che ci obbligano tutti con la mascherina e quant'altro non è stato semplice. Però l'energia e la voglia di poter evidentemente ritrovarci sempre secondo le norme però anche a poter avere delle attività, delle interazioni, a poter scambiarsi anche di persona, come dire, confronti e stimoli. Questo per noi è molto importante. Voi avete giocato sempre il ruolo fondamentale appunto nel mondo dei pagamenti elettronici. Piccola nota storica, se me lo consente. Seppa, oggi lo diamo per scontato, almeno stando all'interno del circuito. Ma se volessimo tornare un attimo indietro con lo sguardo, come è stato appunto introdurre questo standard che oggi appunto consente con la massima facilità e la trasparenza di fare pagamenti, modifici così all'interno dei paesi aderenti. Ovviamente questo, se parliamo della SEPA e della Single Euro Pement Area, che l'acronimo questo significa, ovviamente è stato un processo avviato con gli inizi degli anni 2000, proprio in connessione alla creazione della divisa omogenea e unica all'euro in tutta l'area euro. Ovviamente a fronte di un'unica moneta comune si doveva lavorare per creare un'area armonizzata sotto un profilo di infrastrutture di pagamento, ma anche di servizi di pagamento comuni nei 27 paesi dell'area comune. Quindi ovviamente la Single Euro Pement Area ha avuto proprio l'ambizione di far dialogare tutte le banche europee e soprattutto di affermare nuovi schemi di regolamento e quindi semplificare la vita di noi cittadini che nelle occasioni di pagamento sia che questi accadano in Italia o in altri paesi, un bonifico è sempre un bonifico, quindi un bonifico ci consente di trasferire del danaro nell'arco evidentemente di una giornata, il T1 ormai affermato e quindi questo ha consentito davvero una user experience migliore per il cittadino e ha soprattutto favorito una competizione livellata, un terreno omogeneo di gioco a livello non solo domestico ma anche internazionale. E questo è accaduto dapprima con l'emanazione della cosiddetta Payment Service Directed 1, cioè la prima direttiva sui servizi di pagamento che è avvenuto intorno al 2007 che ha proprio introdotto questo framework normativo connesso alla SEPA e dove anche in seguito all'entrata in vigore ormai nel 2019 con una trasposizione piena della cosiddetta Payment Service Directed 2 e questo in qualche modo ha inteso favorire un accrescimento della sicurezza dei pagamenti, una piena protezione del consumatore nelle occasioni di pagamento favorendo quello che noi chiamiamo il processo di innovazione e tutto quello che è la competizione tra gli operatori e in questo processo di interoperabilità almeno europeo ma anche con la globalizzazione noi abbiamo una esigenza forte di favorire la collaborazione tra gli intermediari finanziari tenendo anche conto che l'avvento dei cosiddetti over the top, dei grandi player della tecnologia, mi riferisco alle GAF, al Google, Apple, Amazon, Facebook, Alibaba e molti altri operatori di tecnologia, oggi la più grande banca anche europea non riesce a competere a questi giganti tecnologici. Quindi da una parte il processo ormai tracciato dalla SEPA dell'area unico dei pagamenti a livello europeo ma ormai le spinte innovative tecnologiche e giganti dei social media hanno favorito il processo di accelerazione digitale anche degli intermediari finanziari. Quindi noi come azienda che insomma richiamavamo da 20 anni contribuiamo a questo processo di ammodernamento e di digitalizzazione in ecosistema aiutiamo proprio le nostre banche azioniste a migliorare e a evolvere, aiutare ovviamente i propri clienti a utilizzare nuovi strumenti di pagamento, avere nuove occasioni, quindi clienti insomma privati ma anche imprese e quindi favorire quello che noi consideriamo la piena interoperabilità tra tutti gli attori e soprattutto evitando la frammentazione del mercato non soltanto a livello italiano ma soprattutto a livello europeo abbattendo quello che poi è il costo di connessione abbattendo i costi di gestione soprattutto di quelli che sono gli elementi a basso valore aggiunto quindi quegli elementi che noi consideriamo indifferenzianti e quindi noi cerchiamo di trasformare quelle che sono le sfide in opportunità e quindi in questo percorso noi tecnologicamente aiutiamo anche una migliore offerta dei servizi della pubblica amministrazione attraverso il canale degli intermediari quindi aiutiamo il collegamento digitale tra le pubbliche amministrazioni e tutte le banche quindi siamo anche un entry point quindi un punto di accesso tecnologico di Pago.pia che è la società che governa oggi i pagamenti della pubblica amministrazione promossa dal ministro dell'economia e delle finanze. Ma tornando per un attimo alla PSD2 che poi ha introdotto una serie di categorie di prestatori di servizi che non erano presenti prima, il quale è il regolatorio. Il mondo bancario come come l'ha appresa tra virgolette nel senso che appunto l'ingresso da un lato dei grandi player che vengono da un mondo completamente diverso a quello della tecnologia, dall'altro magari invece di start up o soggetti più piccoli che offrono servizi di nicchia agganciandosi agganciandosi all'API che si è messo a disposizione dagli istituti finanziari. Come sta vivendo il mondo bancario di questa informazione? Da un lato mi rendo conto ci sono opportunità, però dall'altro forse c'è un po' un rimescolamento delle cariche. Allora, tanto proprio dalla spinta regolatoria della Payment Service Directive 2 che ha veramente lanciato in maniera obbligatoria nell'area euro, nella SEPA, il fenomeno cosiddetto dell'open banking. Che cos'è l'open banking? Insomma, obbligare tutte le banche italiane a esporre proprie informazioni sui conti correnti piuttosto che sul saldo e quindi abilitare sempre sull'autorizzazione dei propri clienti e abilitare la concorrenza e quindi l'accesso di queste informazioni ad altri soggetti. Quindi da un lato si obbliga le banche tramite application program interface, l'API, a dare queste informazioni a queste cosiddette terze parti, ovvero sono dei prestatori dei servizi di pagamento con dei ruoli specifici che, insomma, nel ruolo di canalizzatore di pagamenti, piuttosto di acquisitori di informazioni dei clienti a cui hanno offerto ovviamente i propri servizi, ecco evidentemente in una fase iniziale ogni volta che si subisce l'obbligo il comparto finanziario ha dovuto comunque digerire, compiere degli investimenti significativi per consentire questo accesso alle informazioni a categorie che poco prima dell'entrata in vigore della Payments Directive 2 della PSD2 non potevano evidentemente fruire di queste informazioni. Quindi, insomma, l'inizio è stato effettivamente complesso, complesso da un punto di vista, insomma, di organizzazione delle attività, ma noi abbiamo come CB cercato di sfruttare la nostra tradizione di ecosistema mantenendo la linea strategica e cercare con resilienza di favorire questa trasformazione di tutte le banche. Abbiamo ovviamente lavorato con le banche italiane, abbiamo sviluppato una piattaforma CBI Globe, sfruttando proprio l'esperienza ovviamente pregressa di vent'anni di corporate banking antelittera ma dell'open banking e quindi sfruttando questa esperienza abbiamo aiutato le banche che sono ormai circa 300, l'80% del mercato a rispondere a questa norma, questa obbligatorietà cioè di esporre le informazioni di saldo di conto corrente o piuttosto di poter canalizzare i bonifici sempre su autorizzazione dei clienti delle banche e presso le banche di radicamento di conto, cioè presso le banche dove il cliente intrattiene un rapporto di conto corrente e noi abbiamo aiutato tutte le banche italiane e l'80% ha scelto CBI Globe a effettivamente rispondere a questo obbligo e quindi abbiamo aiutato con lo sviluppo della piattaforma a definire ovviamente le norme, gli standard e a garantire l'interoperabilità tra le cosiddette terze parti quindi le fintech nel ruolo di payment initiator service e di account information service a dialogare con il mondo finanziario. Ora come le banche hanno evidentemente con questa piattaforma hanno avuto la possibilità di rispondere tempestivamente alla compliance in modalità collaborativa quindi rispondere all'obbligo di adeguamento e di trasformazione con un approccio condiviso evitando quindi che ciascun intermediario dovesse spendere sulle stesse infrastrutture non differenzianti quindi non effettivamente non a valore aggiunto e quindi noi come CBI abbiamo avuto un importante ruolo di favorire questo processo di ammodernamento tra banche e cosiddette terze parti e ovviamente la sfida a questo punto sarà ulteriormente quella di andare un po' oltre la fase obbligatoria e evolvere questi servizi di open banking in ulteriori funzionalità fare in modo che le banche possano mettere a disposizione altre informazioni oltre l'obbligo della PSD2 affinché i cittadini per il tramite i propri clienti per il tramite di operatori possano avere altre informazioni da fruire in maniera ovviamente in logica di servizio. Questi servizi che la PSD2 abilita per chi sono più appetibili per il mondo corporate o per il mondo retail almeno ad oggi in Italia. Allora questi servizi intanto hanno inteso obbligare le banche nella esposizione tramite API alle cosiddette terze parti per aiutare soprattutto il mondo retail a utilizzare anche soggetti non bancari in che cosa? Nella canalizzazione di bonifici piuttosto che gestire con un'app le informative di conto corrente o di saldo di tutti i conto correnti accesi quindi attraverso un telefonino noi possiamo anche avere non solo dalla nostra banca ma da altri soggetti challenger bank, dalle fintech che entrano nel mercato prodotti che in qualche modo favoriscono l'entrata in relazione alla fruizione dei servizi finanziari. Ora questo però sta anche interessando il comparto corporate tanto più che il mondo dell'aggregazione dei conti ad esempio l'account aggregator e non è soltanto una funzione richiesta dal cittadino, dal cliente retail ma è una funzione assolutamente necessaria utilizzata quotidianamente da tutte le imprese per l'attività di cash management e quindi questo è l'account harmonization quindi l'armonizzazione dei conti accesi da un'impresa e quindi vedere su un'unica videata i saldi e quindi avere la vista armonizzata delle proprie posizioni finanziarie è un valore inginto anche nel mondo corporate e questo è solo il punto di inizio quindi noi stiamo favorendo anche un processo innovativo per il comparto aziendale. Lo so che non è il vostro, non rientra un po' nelle vostre attività ma le terze parti di cui parlavamo quindi questi soggetti che non sono banche ma che possono però partecipare all'ecosistema bancario e finanziario stanno riscontrando molte difficoltà nel far fronte al peso della compliance che è un peso sempre crescente se vogliamo e in Italia si era parlato da parte della Conso per esempio la proposta di creare una sandbox quindi un'aderoga sostanzialmente al regolatorio al fine di alleviare un po' il peso appunto della compliance che questi soggetti, spesso start up quindi con pochi mezzi devono affrontare. Parliamo di soggetti che non sono banche però appunto che partecipano all'ecosistema. Può essere una, ecco improvviso la domanda così, ma può essere una strada quella della sandbox oppure appone poi dei problemi nel momento in cui c'è un rientro della, diciamo, della normativa di eravente operativo. Anzitutto come CB noi lavoriamo per garantire piena raggiungibilità e interoperabilità tra le banche ma nel far ciò è evidente che abbiamo semplificato enormemente il dialogo tra le cosiddette fintech terze parti che il rammento possono essere anche l'attività di inizializzazione e di PISP e AIS può essere anche svolta da una banca quindi non è un lavoro esclusivo delle parti diverse da banche quindi può essere un soggetto non banca, quindi un prestatore di servizio di pagamento bancario e non bancario. Ora in questo ambito noi abbiamo svolto anzitutto un lavoro di armonizzazione e semplificazione nel colloquio tra le cosiddette terze parti e le banche di radicamento di conto altrimenti avremmo in assenza della piattaforma sviluppata di CBI Globe avremmo invece avuto un colloquio che poi in tecniche se ci piace dirlo come spaghetti connection cioè un dialogo NN dove ogni soggetto doveva stendere il filo di collegamento filo ovviamente digitale con propri standard con propria messaggistica quindi immaginate quanto dispendio economico non solo di tempo ma proprio di investimento quindi avere invece evitato ciò attraverso un meccanismo di dialogo digitale cioè attraverso una piattaforma centralizzata di un ecosistema delle fintech da un lato che per una piattaforma dialogano con il sistema finanziario dall'altro certamente questo ha favorito enormemente ma il tema è un po' più ampio noi abbiamo ovviamente lavorato anche come comunità come azienda a aiutare le banche e l'ecosistema a interpretare tutte le cosiddette aree grigie della messaggistica della standardizzazione pubblicando delle cosiddette guide implementative cioè delle implementation guidelines per meglio veramente interpretare tutte quelle diciamo quelle parti dello standard che noi definiamo grigio comunque che non erano pienamente chiare all'ecosistema quindi noi abbiamo veramente aiutato banche e non quindi le fintech a ulteriormente mettersi d'accordo e far sì che non si determinassero degli scarti in questo scambio digitale ora la proposta della sandbox si lega molto anche a quello che ha promosso e ha promosso la stessa banca d'italia proprio nel favorire quello che è l'immersione di nuove start up e quindi abbattere se vogliamo i costi per una fintech che comunque ha una ridotta possibilità di approvvigionamento finanziario l'iniziativa del Milano Hub che è proprio diciamo l'iniziativa promossa da Banca d'Italia che è quella di favorire la creazione di una sandbox piuttosto che diciamo promuovere l'innovazione anche in qualche modo sospinta dalla stessa autorità di vigilanza quindi io credo che quello che lei richiamava è già stato in qualche modo interpretato dalla stessa Banca d'Italia nel lanciare questa iniziativa ormai da qualche mese bene io oserei trattare un altro tema facciamo un'altra digressione il tema dei rischi dei dati legati al rischio questo non è un tema chiaramente che attiene alla PSD2 ma è un tema che attiene comunque all'ecosistema bancario anche anzi soprattutto nella misura in cui questo ecosistema poi è governato dalle banche centrali e sappiamo dalle banche centrali sappiamo ad esempio che i dati diciamo i dati da centrale rischio in generale i dati in possesso della Banca d'Italia non sono dati resi disponibili, resi pubblici benché la Banca d'Italia sia un soggetto pubblico, un ente pubblico e quindi soggetto anche agli obblighi in termini di pubblicazione di dati aperti in questo caso una maggiore apertura non potrebbe essere utile non solo agli utenti ma anche agli stessi operatori del settore per poter fruire di servizi specializzati che ad esempio anche attraverso algoritmi di intelligenza artificiale, machine learning siano in grado ad esempio di fare una valutazione del rischio connesso a un cliente o anche con chi vuoi sì o anche ad esempio in ambito AML sono appunto start-up, soggetti comunque emergenti che affrontano problemi specifici in questo ambito ma hanno come difficoltà quella di non avere a disposizione da parte appunto del soggetto della Banca centrale una quantità adeguata di dati e questo lo percepisce come un problema oppure dal punto di vista del mondo bancario non lo è allora anzitutto le grandi big tech negli ultimi dieci anni ci hanno insegnato quanto il dato rappresenti ormai il nostro petrolio e quindi la capacità, la sfida degli intermediari finanziari è l'ambito che ovviamente io verifico e il lavoro sul quale ogni giorno mi impegno è quello di trasformare questo petrolio in benzina e quindi la cosiddetta beta monetization quindi la monetizzazione del dato è proprio la frontiera evolutiva su cui gli intermediari finanziari via via stanno rivolgendo le attività attività che peraltro sono state già tracciate come appunto richiamavo in apertura dalle cosiddette aziende le big tech le aziende che operano nel mondo dei social media che da anni rendono un servizio gratuito a fronte di tutte le informazioni che come pollicino ciascuno di noi rilascia sulla rete e grazie a queste informazioni ogni cittadino ognuno di noi per l'utilizzo dei vari social è profilato e quindi grazie a queste informazioni da anni queste big tech sono veramente divenute le proprietarie di informazioni delle quali effettivamente rendono poi attività successive redditizie con la commercializzazione di alcuni servizi basati sulla profilazione annesi e connessi quindi il tema del dato il tema della data monetization è un aspetto sul quale anche gli intermediari stanno via via lavorando per una serie di elementi da un lato l'abbiamo anche visto l'avvento dei big data e quindi anche la creazione di strumenti di big data analytics con la creazione dei data lakes quindi la possibilità anche per gli intermediari ma in generale per le industrie di poter utilizzare le informazioni dei propri clienti da un lato con l'obiettivo di prevenire frodi piuttosto che ridisegnare strategie commerciali ma anche proprio quello di diciamo di ad esempio identificare nuove opportunità di business però tutto questo siccome le banche sono nate per sono nate comunque tradizionalmente offrono servizi commerciali tradizionali questo ovviamente la gestione la commercializzazione e la messa in redditività del dato è un tema assolutamente di frontiera e stiamo lavorando sempre nella consapevolezza che la proprietà del dato è una proprietà che si riconduce evidentemente al cliente ora su questo non possiamo non tener conto del fatto che la stessa PSD2 ha dato al cittadino ha veramente incardinato nella cittadino cliente della banca diciamo l'onere o quantomeno la proprietà del dato anche in relazione alla GDPR quindi è solo il cittadino che autorizzando questi soggetti può effettivamente consentire almeno per quello che riguarda l'open banking la diciamo lo sfruttamento e comunque l'accessione di queste informazioni a soggetti terzi ora l'open banking sta andando oltre quello che la PSD2 ha definito e tutto lo sfruttamento del dato va in questa direzione quando parliamo di processi di New York customer quindi il cosiddetto onboarding e il KYC del cliente implica il fatto che la banca abbia approntato evidentemente un investimento nel riconoscimento del cliente e quindi può di quella processo evidentemente condividere una parte o totale diciamo blocco informativo con soggetti con altri soggetti di cui evidentemente il cliente è in comune e quindi questo meccanismo può dare anche agli intermediari finanziari la possibilità di creare redditività dal bacino informativo dai dati in pancia delle banche quindi questo è un po' il percorso evolutivo tenendo anche in considerazione che il mondo transazionale è sempre più osservato come meccanismo come opportunità redditizia proprio perché le fonti tradizionali il margine di interesse ormai quasi negativo e insomma i contassi di rendimento prossimi allo zero evidentemente la banca transazionale via via accresce la quota di contribuzione al fatturato certo su questo noi cominciamo appunto in generale sull'innovazione del settore finanziario rispetto al resto d'Europa come Italia cominciamo peraltro noi siamo stati negli anni scorsi all'avanguardia in determinati momenti di innovazione io ricordo appunto ne parlavamo prima di iniziare il tema della fatturazione elettronica in cui siamo stati forse i primi in Europa sì in generale appunto come siamo messi oggi allora sicuramente i margini di miglioramento sono sempre molti però ecco secondo me bisogna guardare con sincerità e su archi temporali almeno per quello che ho osservato io negli ultimi almeno due decenni effettivamente vedere come la capacità di creare infrastrutture collaborative del sistema finanziario da un lato le normative dell'altro abbiano aiutato proprio l'Italia a compiere dei passi evolutivi innovativi dei passi proprio di digitalizzazione sia nel comparto dei pagamenti sia nel comparto della gestione documentale mi riferisco alla fattura elettronica adesso nel comparto dell'open banking e quindi quello che poi si sta realizzando io insomma il tema della digitalizzazione dell'Italia è un tema che è chiaramente mappato dalla commissione europea noi siamo al venticinquesimo posto della digital economic society index e questo indice ci pone così un fanalino di coda pur avendo noi delle eccellenze e quindi in sostanza da un lato siamo un fanalino di coda ma abbiamo delle delle esperienze di tutto rispetto in diciamo se confrontate con l'Europa un'esperienza che veramente mi fa piacere ricondividere perché ne parlavamo è proprio l'obbligatorietà della fattura elettronica che noi in Italia abbiamo avviato con ovviamente la finanziaria del 2008 cioè noi con una importante finanziaria abbiamo definito l'obbligo in Italia per le fatture elettroniche indirizzate alla pubblica amministrazione pena il mancato pagamento bene da quella da quell'impulso che le cui evidentemente spinte provenivano dai lavori della Commissione Europea a cui ho avuto veramente l'onore di partecipare nel 2005 2006 quindi una grande spinta del paese con una grande supporto del sistema finanziario a consentire che l'Italia potesse evidentemente arrivare tra i primi paesi a definirne l'obbligo nel comparto pubblico nel 2013 quest'obbligo si traduce in realtà e nel 2018 addirittura l'obbligo si estende non solo alla trasmissione della fattura elettronica obbligatoria verso la pubblica amministrazione ma addirittura un obbligo nel comparto cosiddetto B2B tra privati quindi noi siamo stati una assoluta eccellenza se confrontati con il resto d'Europa ad aver introdotto l'obbligo della fattura PA e per primi in Europa l'obbligo della fattura elettronica tra privati ora nel comparto anche della digitalizzazione dei pagamenti sicuramente abbiamo margini di miglioramento però un esempio che mi fa piacere condividere è anche quello collegato ad esempio a tutto il tema che richiamavamo prima dell'open banking noi abbiamo in sostanza lavorato per diciamo creare un ecosistema condiviso in un ecosistema condiviso la piattaforma di CBI Globe e quindi in logica collaborativa siamo riusciti ad aggregare l'ottanta per cento del mercato ecco sull'open banking solo open banking UK quindi in Inghilterra hanno raggiunto con una piattaforma il cento per cento delle banche ma perché obbligate dalla norma quindi noi in sostanza abbiamo all'attivo la nostra capacità di collaborare di cooperare e quindi questo secondo me è molto importante e io insomma l'esperienza della fattura elettronica con insomma ritorno un attimo alla sì sì ma anch'io ci volevo tornare sì sì ecco è certamente un'esperienza di tutto di tutto rispetto e oggi insomma anche per il fatto che i canali il canale finanziario le banche rappresentano un canale di colloquio con il sistema di interscambio che permette proprio agli istituti finanziari aderenti di inviare per conto dei propri clienti fatture elettroniche e tutti i dati riepilogativi all'agenzia delle entrate proprio in piena coerenza con la normativa in materia di fiscale noi come CPI siamo orgogliosi di abilitare anche questo con le nostre infrastrutture e questo lo facciamo addirittura prima prima dell'introduzione dell'obbligo B2B di trasmissione delle fatture elettroniche tra privati ma possiamo dire che in Italia la norma è un po' più pesante se vogliamo nel senso che introduce degli obblighi che la norma europea non prevede ad esempio l'obbligo di firmare la fattura verso la pubblica amministrazione oppure se vogliamo anche lo stesso sistema di interscambio è un po' un'anomalia nel senso che ci sono altri stati membri in Europa come la Francia che hanno appunto un sistema centralizzato che è preso obbligatorio però l'impostazione generale in Europa è di costruire sistemi decentralizzati quindi comunicando ovviamente i dati fiscali all'organismo dell'agenzia delle entrate però senza che necessariamente il transito debba essere attraverso un'app centralizzato se pensiamo un po' ad esempio al mondo peppol che è un mondo che nasce decentralizzato che sicuramente prevede poi la possibilità di comunicare di comunicare ma non richiede non richiede appunto che il modello sia così centralizzato questo può costituire un po' ecco un vincolo rispetto ecco rispetto alla possibilità di innovare e di pensare a modelli nuovi allora io sono fortemente convinta che i grandi processi di cambiamento raramente accadono bottom up cioè lasciare l'industria privata a un processo di ammodernamento è molto molto faticoso e raramente raramente fa conseguire gli obiettivi sperati nei tempi necessari quindi la cosiddetto approccio top down regolatorio quindi quando vi è l'entrata in vigore di una di una evidentemente di una di un decreto legislativo piuttosto che evidentemente il ricepimento di una direttiva europea beh questo accelera il processo di trasformazione di un paese perché perché è evidente che solo in quel modo si riesce a condurre un processo di trasformazione che sia pienamente pervasivo perché sa noi come comunità finanziaria abbiamo introdotto abbiamo iniziato a parlare di fattura elettronica nel 2004 2003 2004 cominciavamo a realizzare i primi road show e le assicuro che diciamo il tema è diventato un hot topic quindi un tema caldo se non quando abbiamo iniziato a parlare dell'obbligo quindi a volte essere dei cosiddetti first mover aver compreso il valore del processo di automazione di trasformazione di vedere un documento che è l'anello di congiunzione della supply chain con la financial chain ma che ai noi presenta comunque elementi di complessità perché comunque parliamo di aspetti tecnici e talvolta questi aspetti tecnici non sono nelle agende dei top manager aziendali quindi l'innovazione quando è di processo insomma è più semplice se spinta da un processo evolutivo ora il tema quindi questa è un po' la mia visione di come ovviamente la norma può favorire e accelerare la trasformazione a meno che come abbiamo noi visto nel caso della pandemia l'adozione dei pagamenti elettronici ovviamente è sempre stata piuttosto bassa in Italia eppure con la pandemia abbiamo avuto doppio tutti noi abbiamo imparato in un anno a utilizzare piattaforme di scambio di colloquio digitale utilizzare forme di pagamento piuttosto che scambi informativi che diversamente avremmo fatto in assenza della pandemia quindi insomma in assenza di fenomeni come la pandemia il cambiamento impiega almeno un decennio quindi la norma serve quando vogliamo comprimere questo processo di innovazione ora nella fattispecie insomma la riflessione sulla fattura elettronica e quindi l'adozione della firma digitale io rammento quanto questo fu un elemento davvero molto dibattuto cioè l'obbligatorietà o meno della firma digitale dove ovviamente insomma le posizioni in Europa erano totalmente erano diverse i paesi scandinavi assolutamente a favore dell'assenza dell'adozione della fattura elettronica anche la mia posizione era in questo senso perché dal mio punto di vista l'automazione di un processo non è garantito dalla firma perché la firma evidentemente garantisce la integrità di chi ha spedito il documento ma non garantisce che il documento sia evidentemente integro e quindi non è con la firma digitale che si elimina diciamo il tentativo di frode e allora sono i cosiddetti processi interni che le diciamo le strutture aziendali debbono porre in essere per evitare cosiddetti anomali o piuttosto tentativi di di frode però come dire la firma digitale ha avuto la scelta del nostro ordinamento il nostro legislatore è oggi obbligatoria ovviamente poteva anche non esserlo ma è stata fatta un'altra scelta ovviamente il tema della no di rotrospettivamente noi non abbiamo l'alternativa certamente oggi abbiamo questa impostazione e cerchiamo di favorire comunque mi sento di confermare che grazie a questi processi di materializzazione e quindi l'aver introdotto in Italia la fattura elettronica obbligatoria prima nel comparto B2G e poi B2B dal 2018 evidentemente noi noi abbiamo potuto migliorare enormemente anche il processo di controllo e di attività evidentemente di monitoraggio della spesa pubblica da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze quindi questo ha significato enormemente uscire da quell'incertezza che molto tempo molti anni fa leggiava sui giornali su quanti erano i debiti della pubblica amministrazione oggi è chiaro quanti questi debiti sono se ovviamente insomma si nella diciamo nell'attività centrale del sistema di interscambio si può avere un contatore centralizzato e poi anche diciamo l'esperienza del cittadino migliore perché parte del tracciato va a finire nella precompilata quindi c'è un vantaggio se vogliamo anche dal punto di vista dei servizi al cittadino assolutamente una piccola curiosità tornando appunto a quei momenti in cui in Europa si dibatteva della firma digitale nella fatturazione elettronica e abbiamo poi visto che almeno nella direttiva poi non è stata non è stata inserita l'obbligo c'è stato un ruolo dell'Italia in questo insomma magari in contrasto con quella che invece era la posizione del legislatore italiano mi spiego meglio siamo stati a favore o contro in sede europea della firma ma la direttiva è stata recepita quindi la direttiva lasciava apertura sì quindi dava due opzioni noi abbiamo in Italia in Italia ma in europea c'è stato ovviamente la la direttiva si è mossa su principi e su il cosiddetto final report della commissione europea dove ovviamente non veniva richiamato la necessarietà dell'obbligo della firma digitale e c'è stato un ruolo dell'Italia appunto del lavoro dei preparatori oppure ha prevalso semplicemente qui qui ripeto le azioni le azioni dico in Europa come per quanto riguarda poi peraltro avendo partecipato alla commissione europea nei lavori insomma non è che l'Italia voleva la fattura o almeno all'epoca nella redazione del final report non vi era la posizione italiana si davano le linee guida e nelle linee guida vi era l'apertura nell'adozione come non nell'adozione è lì che nel recepimento poi della direttiva qui abbiamo evidentemente adottato un'azione restrittiva sì sì no questo è chiaro non mi interessava sapere appunto se ci fosse stato un ruolo giocato un po' da italiani comunque in generale nei lavori ecco preparatori in senso diverso a quello che poi invece è stato il recepimento perché beh questo ripeto la direttiva era molto più ampia nel momento in cui di solito c'è un lavoro se si vuole modificare una cosa che stringe invece essendo la direttiva più aperta insomma era possibilista all'epoca quindi il lavoro è stato fatto tutto in Italia bene una piccola ecco così una opinione personale sulla cosa potrà quali potranno essere le iniziative del governo Draghi o del ministro Colao in termini appunto di innovazione di trasformazione digitale del settore finanziario ma ovviamente io quello che mi sento insomma di qualche modo testimoniare è un po' intanto il forte apprezzamento che il discorso di insediamento del nostro capo del governo ha suscitato no? in tutti noi quindi io mi sento fortemente vicina un pochino a tutto quello che il presidente del consiglio ha condiviso con noi proprio nel suo insediamento ora mi sento anche di diciamo di confermare il fatto che c'è stata una grande attenzione proprio rivolta al rilancio del paese attraverso tutte quelle misure che consentono di superare il deficit economico e proprio di competitività internazionale in cui purtroppo tutti noi ci siamo ritrovati e comunque in cui noi come paese ci dobbiamo misurare insomma ho apprezzato molto la necessità di questo senso di ricostruzione una nuova ricostruzione che evidentemente si è prospettata proprio in questo slancio di lungo periodo quindi è stato richiamato veramente questa generosità generazionale un richiamo ai figli alle future generazioni è il fatto che insomma ciascuno di noi anche i politici deve essere mosso da uno spirito di lungo periodo ovviamente abbiamo ascoltato insomma quali sono i fondamentali del piano che il nostro primo ministro intende portare avanti l'ambiente le infrastrutture fisiche ovviamente gli investimenti in reti di comunicazione a 5G e tutto il tema della digitalizzazione la tutto la riforma fiscale senza poi dimenticare la priorità della parità di genere oppure l'educazione quindi la formazione e soprattutto l'innovazione della pubblica amministrazione che la lotta veramente veramente il contrasto all'evasione quindi io credo che dalle parole del discorso di insediamento di Draghi vi sia un chiaro intento di traguardare diciamo oltre l'anno finale della Next Generation EU quello del 2026 proprio per indicare gli obiettivi addirittura per il 2030 insomma dal 2030 e il 2050 in cui proprio vi è l'intenzione dell'Unione Europea di arrivare addirittura a zero emissioni di CO2 e a gas clima alteranti quindi vi sono una serie di sfide che noi abbiamo chiaramente potuto comprendere dalle parole di insediamento di Draghi io auguro a questo governo tanto successo a proposito di parità di genere non posso non fare questa domanda siamo in chiusura ma come come essere in Italia una donna che veste ruoli apicali in un mondo che è comunque un mondo tradizionalmente tradizionalmente dominato dei maschi come è stato e come c'è un miglioramento c'è un insomma qual è l'esperienza personale guardi io nel mio percorso professionale non ho mai pensato di essere cioè non ho mai pensato alla diversità di genere insomma io posso semplicemente testimoniare che in generale non ci sono passi gratis e quindi l'impegno la dedizione la costanza la perseveranza la fortuna le competenze tutto questo e anche un po' anzi una grande organizzazione familiare una grande anche una grande un grande supporto proprio da un punto di vista di opportunità opportunità è di non far pesare quindi io non ho mai avuto in famiglia anche la famiglia proprio dei miei genitori continuano a supportarmi in tutto questo processo di responsabilità dentro e fuori la famiglia tre figli una famiglia piuttosto intensa con due gemelli ora questo non vuol dire insomma che non si fatica si fatica molto io credo che bisogna essere dei seri competenti professionisti e veramente non lasciar cadere non insomma presidiare i propri ambiti di responsabilità con pieno sacrificio evidentemente il tema di genere è un tema insomma non si può banalizzare è un tema molto importante insomma l'esperienza personale mi ha mi hanno fatto comprendere tanti aspetti ora mi sento mi sento anche di dire che proprio lo stesso Draghi nel suo discorso ha posto l'accento sulla gender equality lo stesso rapporto delle iniziative per il rilancio Italia 2022 il cosiddetto piano Colau ha proprio dato una una cioè inserisce proprio l'agenda equality tra le iniziative principali per introdurre ovviamente una innovazione per far fare uno scatto al paese per raggiungere quelli che sono gli obiettivi dell'agenda 2030 e quindi per migliorare la sostenibilità economica sociale e ambientale italiana e quindi è necessario perseguire la gender equality proprio per favorire questo percorso di innovazione di miglioramento della diciamo della qualità dello stesso PIL italiano ora mi sento anche di diciamo di riflettere sul fatto che è importante diciamo sottolineare anche il riferimento alle cosiddette differenze di genere e di età perché insomma noi vediamo che per appianare le disuguaglianze di genere e generazionali è fondamentale diciamo rendersi conto che in Italia esistono delle grandi differenze soprattutto si rilevano dalle recenti indagini dell'Istat che le donne insieme ai giovani e ai lavoratori del mezzogiorno restano proprio più esposte ad una bassa qualità del lavoro tendenzialmente ad esse sono associate anche più bassi livelli di retribuzione addirittura insomma poi guardiamo il tasso di inattività delle donne è del 43,5% con una differenza di quasi 19 punti percentuali rispetto agli uomini e quindi insomma se guardiamo invece la media europea è intorno al 12,5% tutto questo ci fa comprendere quanto l'Italia ha veramente bisogno di una vera strategia di gender equality e in sostanza vorrei anche dire che forse sperando di entrare nella fase di superamento di questa pandemia il lavoro agile e quindi il cosiddetto smart working non quello che stiamo facendo oggi che è tendenzialmente un remote working quindi un lavoro totalmente remotizzato ma veramente un lavoro flessibile possa essere uno strumento importante che possa contribuire a superare queste diciamo queste uguaglianze di genere e possa evidentemente dare maggiore flessibilità e possa aumentare la produttività dei lavoratori proprio con particolare riguardo a quelle a quello femminile insomma anche perché non è solo una questione etica ma proprio come diceva è una questione di crescita del paese e di competitività assolutamente bene io non voglio rubare più tempo anche perché ci saremo stasera quindi immagino a parte di iscriversi grazie grazie mille Liliana Frattini Passi direttore generale CB e grazie per questa occasione di appunto affrontare dei temi che non sono sempre sotto i riflettori ma che invece sono assolutamente cruciali per così per il futuro dell'Italia grazie ancora grazie davvero per l'invito per il tempo e l'occasione di condividere con lei e con le persone che ci ascoltano queste queste riflessioni buona serata grazie a tutti